Non riprenderà tutti questi soldi lo Scorpio. In fondo gestire il museo non mi sembra un modo per arricchirsi. Che importa? L'importante è che li abbia. Mostri. No, 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 no. Non ascoltarli. No. E comunque, lei non è una di noi. Ormai ti ha rubato anche i pensieri quella. Fuori per le donne. Ciao. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Non c'è orecchio degno di parola qui, figlio mio. Oh, no. 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 Grazie a tutti.